2016-17 possa essere un anno fuoriero di tante soddisfazioni per gli studenti, per i ragazzi e le famiglie, il corpo docente. E così come ha detto il Presidente del Consiglio Renzi a Catania, la scuola italiana fa parte di Casa Italia. Quindi l'edilizia scolastica e la viabilità sono due settori importanti per la costruzione di Casa Italia. Dentro Casa Italia non c'è dubbio che la scuola è uno dei settori di grande prevalenza e di grande attenzione. Soprattutto per il fatto che l'attenzione massima deve andare agli studenti, ai ragazzi. Perché la scuola è fatta non per altri ma soprattutto per gli studenti e le proprie famiglie. La provincia di Catanzaro che con i suoi 36 istituti punta appunto a dare sicurezza ai ragazzi e soprattutto tranquillità alle famiglie. Con i dirigenti scolastici c'è una grande sinergia. Abbiamo attenzionato tutti gli edifici e siamo riusciti a mettere un piano di sicurezza appunto per gli istituti scolastici. Mi auguro che tutto questo possa continuare anche per l'anno scolastico che abbiamo davanti. Per quanto ci riguarda saremo a disposizione per tutte le esigenze che gli istituti avranno, i dirigenti scolastici. Ma soprattutto un grande augurio ai ragazzi, un grande augurio alle famiglie per un 2016-2017 che possa essere all'insegna appunto dell'innovazione, della sicurezza e soprattutto della tranquillità di tutti coloro che sono gli attori di questo grande sistema che è la scuola.